Per lui nonno non può sbagliare, manco forse il bomber della nazionale dai, a farlo ti agitare se mi fanno lo schiaffetto lui e tu non puoi dire che sia proprio un angioletto non fare il lavativo, se mi faranno il rigore c'è anche il lato positivo, pensiamo a modo del coppiere